ehi persone siete pronti? tra un pochino inizia le tre esattamente il 9 di giugno fino al 12 di giugno e voi vi chiederete e dove faccio le cose per guardare con i miei occhi le conferenze? è qui che ci siamo noi ad aiutarvi sul nostro canale di twitch che troverete in descrizione se non lo sapete già come cliccare i tasti noi streameremo quasi tutte le conferenze tranne quella nintendo quella nintendo la lasciamo alla signorina chichibe che è anche nel suo orario di streaming però quasi tutte le altre noi le streameremo sul nostro canale twitch commentandole e con voi perché ci seguite in chat e noi vi leggiamo quindi mi raccomando è quest'anno maratona termosifonica su twitch per le tre e vi lascio comunque perché voi adesso qui non lo vedete che è piccolino nel telefono però vi metto la tabella con tutti gli orari sicuramente in descrizione così almeno avete tutti gli orari delle conferenze che facciamo in live l'ora in cui le faremo naturalmente partiremo tipo 10-15 minuti prima della conferenza così ci prepariamo tutti per bene quindi mi raccomando seguiteci su twitch le conferenze ma anche tutte le altre live che cacchio dai facciamo le cose fiche